Come risolvere un inceppamento della carta nelle stampanti HP Smart Tank 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300, 7600 Series. Se la stampante smette di caricare le pagine o sul pannello di controllo viene visualizzato un errore di inceppamento carta, attenersi alla procedura riportata di seguito per eliminare l'inceppamento carta. Controllare le aree comuni all'interno della stampante per eventuali inceppamenti. Per prima cosa, controllare il vassoio di alimentazione per eventuali inceppamenti. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione, rimuovere il vassoio di alimentazione, rimuovere il vassoio di uscita. Raggiungere l'interno dello spazio vuoto, sede dei vassoi, quindi estrarre la piastra dell'unità fronte-retro. Rimuovere la carta inceppata, reinserire la piastra dell'unità fronte-retro, reinserire il vassoio di uscita, reinserire il vassoio di alimentazione. Per proseguire con il processo di stampa, premere OK o il pulsante Riprendi. Se il problema persiste, provare a eliminare la carta inceppata all'interno della stampante, sollevare lo sportello di accesso all'inchiostro, rimuovere la carta inceppata, chiudere lo sportello di accesso all'inchiostro. Per proseguire con il processo di stampa, premere OK o il pulsante Riprendi. Se il problema continua a persistere, provare a eliminare la carta inceppata dal retro della stampante, aprire lo sportello posteriore della stampante, rimuovere la carta inceppata, chiudere lo sportello posteriore. Per proseguire con il processo di stampa, premere OK o il pulsante Riprendi. Se la stampante è dotata di un ADF, ovvero di un alimentatore automatico di documenti, provare a eliminare la carta inceppata all'interno dell'ADF. Individuare il coperchio dell'alimentatore di documenti. Rimuovere la carta inceppata. Chiudere il coperchio dell'alimentatore di documenti. Per proseguire con il processo di stampa, premere OK o il pulsante Riprendi. Sui rulli di alimentazione della carta potrebbero accumularsi polvere, residui di carta e di altro tipo, che possono causare problemi di inceppamento e alimentazione della carta. Pulire i rulli dal pannello di controllo della stampante. Spegnere la stampante. Rimuovere la risma di carta dal vassoio di alimentazione. Tenere premuto il pulsante di accensione. Premere il pulsante Copia colore tre volte e il pulsante Copia nero sette volte, quindi rilasciare il pulsante di alimentazione. La stampante si accende ed esegue la pulizia dei rulli del percorso della carta. Attendere fino a quando la stampante sarà inattiva e silenziosa. Sul rullo di prelevamento potrebbero accumularsi polvere, residui di carta e di altro tipo, che possono causare problemi di alimentazione. Pulire i rulli della carta nel vassoio di alimentazione. Per pulire i rulli, utilizzare un lungo bastoncino di cotone e acqua distillata o filtrata. Spegnere la stampante. Scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi. Estrarre il vassoio di alimentazione. Estrarre il vassoio di uscita. Guardare all'interno dello spazio vuoto, sede dei vassoi, e individuare i rulli di prelievo della carta di colore grigio. Inumidire un lungo bastoncino di cotone con acqua distillata, quindi eliminare l'acqua in eccesso. Premere il bastoncino contro i rulli e quindi farli ruotare con le dita. Esercitare una pressione moderata per rimuovere la polvere e i residui di sporco. Reinserire il vassoio di uscita. Reinserire il vassoio di alimentazione. Far asciugare i rulli per 10-15 minuti. Ricollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi. Accendere la stampante. Eseguire il ripristino della stampante per risolverne problemi o errori. Con la stampante accesa, scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Attendere 60 secondi. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa a muro e alla stampante. Nota! HP consiglia di collegare la stampante direttamente a una presa a muro. Accendere la stampante per completare il riavvio. Se il problema persiste, richiedere la manutenzione della stampante. Contattare HP per le opzioni di assistenza e garanzia. Fare clic sulla scheda Playlist su YouTube per visualizzare video di HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP.